Gli abbonamenti ti stanno prosciugando il conto in banca? Ormai tantissimi sviluppatori di software sono passati alla venda di servizi in abbonamento col chiaro intento di farti spendere qualcosa in più. Per fortuna non è sempre così, Setup è un servizio in abbonamento che ti mette a disposizione oltre 240 tra i migliori programmi per Mac a un prezzo che, quando te lo dico, non ci credi. Ciao, sono Mariano di VideoZappo.com Sto usando Setup da diversi mesi e quando l'ho scoperto non ci potevo credere al prezzo di due degli abbonamenti che stavo già pagando potevo avere quei due programmi, più decine di altre app, alcune comodissime tutte comprese nel prezzo dell'abbonamento e col vantaggio di avere un unico abbonamento. Questo video non è sponsorizzato ma i link che trovi nella descrizione e nel primo commento sono link di affiliazione. Nella descrizione e nel primo commento ti segnalo anche eventuali offerte che dovessi essere riuscito ad ottenere. Setup è un servizio in abbonamento, questo l'abbiamo visto. Durante la verità di questo abbonamento tu puoi installare e utilizzare quelle che preferisci tra oltre 250 programmi e app, tanto per Mac che per iOS. i piani iniziano a soltanto 9 euro al mese, tra un istante vediamo quali sono i piani e quali sono le applicazioni che sono comprese e anche il loro livello. T'anticipo che si tratta di ottimo software. Dal link che trovi nella descrizione e nel primo commento puoi anche provare gratuitamente per una settimana Setup. Tieni presente che per questa prova è necessario fornire i dati di pagamento, se il servizio non fa per te potrai cancellare con estrema facilità senza che ti venga fatta alcuna domanda e in totale autonomia. Cominciamo a vedere come funziona su Mac. Su iOS ci sono delle piccole differenze, le vediamo tra un istante. Questa è l'interfaccia del software, l'home page che ti accoglie quando clicchi su questa piccola icona. Qui abbiamo delle applicazioni in evidenza, una serie di tutorial e del software raccomandato per quelle che potrebbero essere le tue necessità e una serie di collezioni che raggruppano app in base a dei compiti specifici. Qui sotto ci sono dei tutorial su alcune app, le app appena arrivate e quelle che hanno ricevuto degli aggiornamenti recenti. Ovviamente puoi anche cercare tra le app disponibili, e guarda un po' che cosa ho trovato, Nitro PDF Pro, giusto per darti un'idea del valore delle app che puoi trovare in setup. Nitro PDF costa quasi 220€, praticamente oltre due anni del piano base di setup, e la versione in abbonamento finisce col costare addirittura di più del piano base, ed è compreso nel prezzo. Questa è la lista delle app disponibili, vedi che è enorme, e dentro troviamo delle cose anche di grandissimo valore, questo è CleanMyMac, un'applicazione utilissima, molto ben fatta, della quale ho anche già parlato qua sul canale YouTube, che costa quasi quanto l'abbonamento a setup, da sola già giustificherebbe un abbonamento. E scorrendo questa lista, che vedi è praticamente infinita, si trovano delle chicche davvero notevoli, software di grandissimo valore. Ti faccio vedere quello che ho installato sul mio Mac. C'è Luminar Neo nella versione in abbonamento, con tutte le estensioni e le funzioni generative già attive, ma anche altre piccole cose, per esempio questo gestore di screenshot è comodissimo, si attiva da questa icona e guarda le opzioni che ti mette a disposizione rispetto a quello che fornirebbe il sistema operativo di suo, ma oltretutto hai delle opzioni, per esempio se voglio catturare lo schermo intero che ti permettono di nascondere le icone sul desktop, vedi questa è la cattura che ho eseguito e che posso ovviamente salvare, viene salvata sul desktop, non ci sono queste due icone, perché vengono automaticamente nascoste, una comodità incredibile per mantenere un minimo di privacy rispetto a quello che tieni sul tuo desktop quando hai necessità di far catture dello schermo intero. Questo ad esempio è un monitor delle risorse del sistema che ti dà le temperature di praticamente qualunque cosa si trovi sul tuo Mac, le prestazioni anche qua di qualunque cosa con i grafici nel tempo che puoi ingrandire semplicemente passandoci sopra. Questo è un editor di foto discretamente realizzato, ma che soprattutto ti offre una quantità incredibile di preset che puoi accedere da qua, e guarda queste sono soltanto le categorie, per ogni categoria ci sono decine e decine di preset che puoi provare semplicemente passandoci sopra, vedi è sufficiente passare sopra col mouse per vedere l'effetto in anteprima, per esempio, che ne so, voglio farla in bianco e nero, ecco qua, un istante ma ce ne sono, insomma, guarda qua, veramente a decine e li puoi sovrapporre, dunque puoi sovrapporre un preset agli altri, a quelli che hai già messo sotto e gestirli da qua quindi puoi attivarli e disattivarli, ma anche eliminarli o cambiarli di ordine per esempio a questa maniera qua, oltre ovviamente a tutte le funzioni che ti aspetti da un editor di foto, non solo a Luminar Neo, che fra le altre cose è compreso, ma è comunque un ottimo editor. Ti faccio vedere anche questo, che è un software per colorare le vecchie foto, non ti faccio perdere tempo, questo è il risultato che ho ottenuto e guarda Photoshop che cosa avevo ottenuto, questa è la foto originale, questo il lavoro di Photoshop e questo il lavoro dell'applicazione inclusa in setup, ed è solo un altro delle decine di programmi per Mac che sono inclusi, mi sembra che il valore del software e la sua qualità siano piuttosto chiari, non voglio annoiarti e manca ancora la ciliegina sulla torta ma te ne parlo più tardi, adesso vediamo come funziona su iOS, se hai un iPhone recente c'è un'applicazione dedicata, su iPad o sugli iPhone meno recenti puoi utilizzare Safari dal tuo account su setup. La procedura di installazione delle app è leggermente differente, qua puoi vedere l'elenco del software disponibile, chiaramente le app sono un po' di meno ma sono comunque tante e di ottimo livello, ti faccio vedere come si installa un'app, prendiamo questa che è un servizio di web radio, per installarla sono necessari due passi, devi andare sull'app store ma come ti ricorda setup l'app store non basta, vediamo la procedura completa, ottengo questo software, nota che il software è sì gratuito ma sono previsti acquisti in app e questi acquisti sono di 6€ per cui per utilizzare tutte le funzionali dell'applicazione dovrei spendere altri 5,99€. Completata l'installazione torno in Safari e qui posso a questo punto attivare l'applicazione, mi chiede di aprire il link sull'applicazione stessa ovviamente a consento ed ecco qua, l'attivazione è avvenuta e sono pronto per utilizzare tutte le funzioni di questa app, io ne ho installate anche delle altre come questo teleprompter che se non l'avessi installato con setup mi avrebbe richiesto degli acquisti in app piuttosto consistenti, il piano completo costa mi sembra 70€, anche in questo caso il software disponibile è comunque parecchio e ci sono diverse cose comode, per esempio Curio che è un'app per la gestione delle notizie ma ce ne sono svariate, trovi la lista completa anche qua sul sito di setup, il link nella descrizione sotto al video. Il piano base, quello che ti accennavo all'inizio, costa meno di 10$ al mese e questi sono i prezzi per l'abbonamento mensile, volendo poi risparmiare impostando la cadenza annuale per la fatturazione, vedi che siamo scesi sotto ai 9$ al mese, chiaramente pagati in un'unica soluzione all'inizio del periodo di abbonamento. In questo piano è incluso esclusivamente un Mac, se oltre al Mac vuoi anche le app per iOS, il prezzo passa a 11€ e 24€ per l'abbonamento annuale, se lo preferisci mensile, vedi siamo sotto ai 12$ e 50$, poi c'è il piano Power User che costa meno di 15$ al mese con fatturazione mensile e scende a meno di 13,50$ per la fatturazione annuale che ti permette di utilizzare 4 Mac e 4 dispositivi iOS, devono essere tutti i dispositivi tuoi, cioè l'account di setup è condiviso, se invece vuoi condividere l'account con la tua famiglia c'è questa apposita opzione che ti mette a disposizione 4 account per 4 persone, su ciascun account puoi avere un Mac e un dispositivo iOS, si tratta di account separati e il costo è di meno di 20$ al mese, cioè 5$ a persona al mese e ciascuna di queste persone potrà utilizzare Luminar Neo, CleanMyMac, NitroPDF, tutti i software che ti ho fatto vedere, tutti gli altri disponibili, ma c'è persino un servizio di VPN che è un abbonamento che da solo giustificherebbe un costo di 5$, non mi dilungo su questo aspetto, mi sembra chiaro che il valore di queste app è davvero notevole, ma c'era una chicca cui ti accennavo e sono gli strumenti inclusi con l'intelligenza artificiale, io ne sto utilizzando diversi, forse il mio preferito è questo qua, che è un'interfaccia molto ben fatta, ha diversi motori di intelligenza artificiale, tra i quali spicca ChatGPT4 di OpenAI, si tratta dell'ultima versione, quella che puoi utilizzare gratuitamente in maniera estremamente limitata, ma utilizzando invece questo software puoi accedere a tutte le funzioni avanzate che richiederebbero un pagamento che è superiore al costo del mio abbonamento mensile, che vedi è di 21$ e 59 centesimi, io ho scelto questa opzione non tanto per il numero dei crediti che è assolutamente sovrabbondante rispetto alle mie necessità, ma perché include queste funzioni anche sull'iPad, mentre invece il piano di base, che mi permetterebbe un risparmio sensibile, è disponibile soltanto per il Mac, io d'altronde ho risparmiato tantissimi altri soldi, disdicendo una serie di abbonamenti, per cui anche utilizzando questo, che è il piano più costoso in assoluto di setup, riesco a risparmiare davvero una bella cifretta. Nella descrizione e nel primo commento ti lascio il link a tutte le opzioni disponibili, fammi sapere nei commenti se ti interessa approfondire questo aspetto dell'intelligenza artificiale, si tratta di software potentissimo che richiederebbe proprio un video dedicato, se interessa lo preparo più che volentieri. Ti ringrazio per aver guardato questo video, ti ricordo i link in descrizione, dammi una mano col canale, ma dai una mano anche ai tuoi amici, condividi il video, fai sapere a tutti di questa opportunità, metti un like, iscriviti o abbonati al canale, ma soprattutto ricordati, non smettere mai di imparare, ci vediamo nel prossimo video!